Campionati di polo negli Stati Uniti Qualificandosi per le semifinali la squadra argentina di San Jose servita da ammirevoli cavalcature che la macchina da presa insegue al rallentatore con una brillante partita batte la squadra aurora degli Stati Uniti segnando 14 punti contro 8 Grazie a tutti Grazie a tutti